Nove arresti nel Cilento per corruzione e appalti truccati nella pubblica amministrazione tra gli arrestati, il sindaco del Comune di San Mauro, Cilento Carlo Pisacane, il vice sindaco Fernando Marrocco, l'assessore Angelo Di Maria. Manette ai polsi di due consiglieri, del segretario comunale, dei responsabili dell'ufficio tecnico e dell'ufficio di ragioneria e dell'amministratore di una ditta di smaltimento rifiuti. Le indagini, avviate dai carabinieri della stazione di Pollica, agli ordini del maresciallo Lorenzo Bronniasono, sono state portate a termine dai carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania, diretti dal capitano Mennato Malgeri. L'inchiesta, coordinata dal procuratore Antonio Ricci e dal sostituto Paolo Itri, riguarda gare da appalto truccate, le libere falsi e le incariche a nomina diretta. Sono tutti accusati a vario titolo di corruzione, concussione e abuso d'ufficio.